Una come Alessandra Sgolastra non può restare sola. La bellissima ex fidanzata di Andrea Zenga, messo da parte il flirt con Cerioli, avrebbe un altro uomo. La bella Alessandra Sgolastra si è lasciata Andrea Zenga ed il passato definitivamente alle spalle. Da quanto risulta, la ragazza avrebbe un altro fidanzato. Ed anche i tempi di Temptation Island assieme al figlio dell'uomo ragno Walter Zenga sono oramai reclusi al cassetto dei ricorsi. I due infatti parteciparono al reality show di Canale 5 quando facevano coppia fissa, ma li lei cedette al corteggiamento di Andrea Cerioli, uno dei corteggiatori. Adesso Alessandra Sgolastra si è fatta vedere con un altro uomo. E lei stessa ha postato una storia sul suo profilo personale Instagram, dove appare con un altro e tante giovane. Sappiamo che si chiama Luca Clementi, e per ora nient'altro. La Sgolastra ha taggato il suo nuovo e per ora presunto compagno. Lui ha un profilo privato e non risulta essere noto nel mondo dello showdiz. Alessandra Sgolastra, Andrea Zenga è un follower del suo presunto nuovo fidanzato ma, sorpresa! Proprio Andrea Zenga figura tra i followers di Clementi. Zenga GR ed Alessandra si sono lasciati proprio quando è scoppiata la pandemia, e fu Andrea a rendere pubblica la rottura attraverso un messaggio pubblicato a mezzo social. Senza avere litigato, senza rancori. Lui parlò soltanto di una scelta giusta sia per me che per lei. Dopo Temptation Island i due ragazzi vissero delle tensioni, e quello fece traballare la loro storia d'amore durata cinque anni. Da lì in poi la situazione è diventata via via sempre più irrecuperabile. Intanto lui è alle prese con la spinosa vicenda che riguarda suo padre. Da parte di Andrea, così come della madre Roberta Termali, sono giunte delle accuse a Walter Zenga in merito alla presunta assenza di quest'ultimo all'interno della loro vita. L'ex calciatore ha però trovato una difesa importante nell'intervento di Raluca Rebedea, sua attuale consorte e dalla quale ha avuto altri due figli rispettivamente nel 2009 e nel 2012. L'ex calciatore ha però trovato un'intervento di un'intervento di un'intervento di un'intervento. L'ex calciatore ha però trovato un'intervento di un'intervento di un'intervento.